Piano piano, come stasera, dobbiamo avere lo spirito giusto e continuare a lavorare come lo stiamo facendo senza sentire nessuna altra cosa che viene fuori dallo spogliatoio perché ci mette più in difficoltà che il resto perché noi siamo molto sereni nello spogliatoio anche se è un momento molto difficile e non abbiamo risultati ma vi garantisco che siamo pronti per tutte le partite che rimane e cercheremo di scendere perché abbiamo la voglia e il carattere e l'abbiamo fatto prova di stasera Se avete stretto un patto con Siderf vi siete parlati dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi? Sinceramente anche quando c'era il mister Allegri era così, non possiamo fare niente sulle chiacchiere e su quello che dicono in giro però nello spogliatoio io non vedo nessun conflitto, non so come si dice ancora dopo otto anni in Italia ma siamo molto uniti, poi come dentro tutte le squadre penso che sia dei gruppetti ma poi sul campo allenamento e sul campo non si vede niente e siamo tutti undici, quelli della panchina, quelli che stanno in tribuna, molto vicini per uscire di questa situazione Dopo un errore lavoroso di Bavodelli abbiamo visto riprenderlo, che cosa hai detto? Cerco a dare un po' di forza, di coraggio, poi ci sono gesti che ti potrebbero fare quando stai bene, non quando stai attraversando un momento un po' difficile quindi giocare semplice è più facile in questo momento La Lazio sta sognando di raggiungere questo sesto posto Europa League, tu questo stadio lo conosci bene La Lazio ce l'ha avuta l'antagonista con la Roma per tanto tempo, che squadra stai vedendo? Ho visto stasera una bella squadra che aveva tanta voglia, che ha delle belle giocate, dei giocatori quindi noi ci ha dato molto da fare e ci ha messo in difficoltà quindi penso che anche se la Lazio sta attraversando un momento un po' particolare gli auguro di fare una bella fine stagione E non è un derby per te questo? Un pochino sì, ma più leggero Grazie Grazie